bella a tutti ragazzi e ragazze c'è un nuovo video e oggi raga giocheremo a brustars per ovviamente fare qualcosina di buono per l'ionio per l'ionio e quindi vediamo un poco raga partiamo con la prima partita la faremo in stella solitaria stella solitaria e poi ci saranno alt delle news news è un pochino piccantine già ma no continuo così aspetta non lo faccio vedere ecco mettiamola qua che non faccio vedere continuo così sarò in tua posizione infatti ma porco è un pochino continuo così dai sono il meno secondo Gesù Gran Pastello e ho perso è minchia meno vabbè passiamo alle news del giornastros di buticolo ok raga passiamo alle news raga alla mia destra c'è una nuova skin belli alla mia destra alla mia sinistra c'è una skin bellissima eccola lì è molto bella è fatta molto bene raga però raga c'è cioè è la mia skin preferita perché è un 8 bit però che è come dite con tutti i temi di bruce stars è carino diciamo è carino non da l'occhio diciamo cioè da un po' l'occhio però non tantissimo quindi a me piace a me piace un botto a me piace un botto poi passiamo con una nuova skin bellissima un'altra skin bellissima che è questa qui di come si chiama di broccolo è bellissima e prossimamente forse la metteranno nel gioco però non ne sono sicuro e quindi no non non capisciremo ok raga adesso passiamo al nuovo prouler è un mago e adesso leggo la descrizione allora sa fare quel cappello fa dei trucchi di magia a tele d'asporto ed è una cosa allucinante diciamo ma anche molto bellina e poi fa anche si rigenera la sosta power si rigenera la vita quando non quando fa smette il teletrasporto e con il teletrasporto teletrasporto una persona nel tuo punto e tu nel punto della persona ok adesso facciamo possiamo anche vedere che che questa skin cioè non ci saranno molti cioè possiamo anche vedere che c'è una star power e non tantissime e ce n'ha una o due vabbè comunque poche e quindi raga è una cosa molto interessante per questo punto di vista quindi raga non posso dire altro stavo dicendo non posso dire altro quindi con questo nuovo brawler alla mia sinistra è tutto e ci vediamo ad un prossimo video bella ragazzi ciao 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 Grazie per la visione!